ciao ho ricevuto una mail un'email molto bella ve la voglio leggere ciao leandro da qualche ora ho nel mio iphone il tuo nuovo album credimi mi sono commosso fino alle lacrime ascoltando malindi tu riesci sempre a sorprendere con le tue parole malindi è proprio quello che io sento dentro di me da quando ho scelto di vivere qui nel kenya i contrasti del mare e della savana del canto nelle moschee e delle preghiere nelle chiese portoghese l'odore del pesce e i bambini senza scarpe sono queste cose che hanno colpito anche me fino a farmi rimanere qui a vivere accanto a questa gente che sorride anche se non ha niente l'africa è straordinaria e tu sei un grande poeta grazie torno a trovarci presto malindi ti aspetta ti abbraccio gabriele grazie lei per queste belle parole ci torno da voi a malindi vedrai ci torno te ne vai o no senza te non ho più niente te ne vai o no ti aspetta ti aspetta ti aspetta